mi vedi ancora scatti e salti e ti teletrasporti curati e vabbè ma come cavolo è successo stavo distantissimo il mio schermo è lì vicino ma che hai calcolato bene dai il mio schermo si dice a me sta lì vicino ah è di nuovo ma troppo più di nuovo non mi devo fare la volta ma non ho visto l'impermissima è una lama che colpisce nello spazio tempo natura ehi sono picchissimi ehi accuccia con quella nuve fa un po' paura quattro volte ti ho colpito ti sei tratto proprio davanti a me mi devi continuare non ci dirà che si dietto? no sono normale qua gg grazie